Bentornati a Radio Puggini On Air. Meloni, privatizzazioni in tre anni, 20 miliardi si può fare, possibilità di candidarmi alle europee al 50%. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Quarta Repubblica in onda su Rete4. Noi prevediamo nel documento economico di bilancio 20 miliardi in tre anni, dalle privatizzazioni un lavoro che si può fare con serietà come lo immagino io. Possiamo cedere alcune quote di società pubbliche senza compromettere il controllo pubblico e su alcune società interamente di proprietà dello Stato possiamo cedere quote di minoranza a dei privati. Tipo ferrovie, sì, anche, è uno dei dossier sul tavolo. Lo Stato mantiene sempre il controllo quando il controllo è fondamentale. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Quarta Repubblica in onda questa sera su Rete4. Meloni, decido all'ultimo se candidarmi alle europee. Vediamo, vediamo. Così la Premier Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica, ha risposto sulla sua candidatura alle europee. Me la cavo così perché non ho deciso. Penso che deciderò all'ultimo, quando si formano le liste, ha replicato a Nicola Porro. Si figuri, se non considero importante misurarmi con il consenso dei cittadini. È l'unico elemento che conta per me. I cittadini che dovessero votare per una Meloni che si candida in Europa sanno che non ci va. Ciò non toglie che se vogliano confermare o confermare un consenso, anche quella è democrazia. Per me potrebbe essere importante verificare se ho ancora quel consenso. Possibilità di candidatura al 50%. Meloni ha poi annunciato l'arrivo nel Consiglio dei Ministri di giovedì di una norma che stiamo facendo per cui nelle attività commerciali con anche uno scopo benefico, sulla confezione di quello che vendi, devi specificare a chi vanno le risorse, per cosa vanno e quanta parte viene effettivamente destinato a scopo benefico. Lo ha detto spiegando che la vicenda del pandoro di Chiara Ferragni ha fatto vedere che c'è un buco in termini di trasparenza nella normativa delle attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico. Voluto o non voluto, adesso vi si può incappare. Quanto alla missione navale UE nel Mar Rosso, è prevalentemente di politica di difesa. Da lì transita il 15% del commercio mondiale. Impedire il passaggio dei prodotti significa un aumento dei prezzi spropositato. Non possiamo accettare la minaccia degli UTI nel Mar Rosso. L'Italia ha sempre sostenuto la difesa della libertà di navigazione. Lo facciamo nell'ambito delle nostre normative. Per questa missione europea di difesa non dobbiamo passare in Parlamento, ma quella di iniziativa statunitense avrebbe significato un passaggio parlamentare. L'Italia c'è, si assume le responsabilità. Così la Premier Giamelloni a Quarta Repubblica. La Premier è tornata anche sull'accordo sul nuovo patto di stabilità e ha commentato «Non è il mio compromesso ideale, ma era il miglior compromesso possibile, altrimenti si sarebbe tornati a vecchi parametri che erano decisamente peggiori», ha detto la Presidente del Consiglio. «Qualcuno in Europa preferiva i precedenti parametri e lavorava per far saltare il banco. Quanto al lavoro di sponda con Macron, penso che lì si potesse fare un po' di più insieme». La Premier ha inoltre definito la misura sul super bonus come la più grande truffa ai danni dello Stato italiano della storia, una misura che costa a ciascun italiano neonati compresi e chi è senza casa più di 2.000 euro a testa e il 50% di queste risorse è andata alla fetta più ricca della popolazione, gente che non aveva casa ha pagato per la seconda casa del miliardario. Qui a Radio Puginio On Air è tutto, ci sentiamo ad una nuova puntata di Radio Puginio On Air.